ciò che tre event fa in vita riecheggia nell'eternità qui troverai solo il meglio ok siamo tornati su un altro video di big of legends qui con me c'è il mio ospite chiamarmi amico fa troppo vero non sono abituato a chiamarti amico benvenuti nell'abisso ululante l'ambiente d'argomento mi servono quindici gold come avete capito se siete particolarmente intuitivi da del vicino siamo su una roba non essere il mio dos ultimo passato costituzione sia che il che ziria ucciderli sarà un'impresa ma noi abbiamo un'idani un'idea ha preso qualcuno una mancia le sciacche sono tre uber oh oh bella cioè io lancio dell'acqua a casa io ho giusto un'ascia giusto fai te il dai senza la mia bolla non facevi niente torna air nasce lei non servirà niente via 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 faccio da più veloce e ti disfai i tuoi piccata che sono potenti nonostante aiuto no facciamo che lo faccio quando muoio allora probabilmente nel titolo di questo video metterò aggiornamento del canale dai 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 però non è un vero problema ho deciso di fare questo video per parecchi motivi sia perché da un po' i tempi che facevo un video no dovevo fare un'update per spiegare perchè non 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 portico ervesce quello p ester ris r fruits ora finito non è si ho visto non è ma cosa il titolato spazzo fa male ma se non guardano tutto oh ma che cazzo minchia da guarda quello ziria molti che ziria neanche se poca vita potrebbero morire ma anche che il che fallo non ci dici che non sono non ci sono ma io merda che uomo eh si può fare un problema troppo facile ok all'altro ora ci divertiamo vabbè quindi non l'ho io ti divertiamo dai eh ragazzi che cosa fai? eh ho sbagliato no esemplare affascinante sono proprio un bel opede mi fa di smettere di ostacolare le mie ricerche ammiratemi 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 faccio un'altra parte ammiratemi ho presi in marchio ok ammiratemi a casa vai prendere quella dietro vai prenderla dietro no prendilo no il giudizio si rispavano sono inserito eh si guarda se la prendo con la cu è morta enorme mezza eh si Ok, no, fett! AHHHH! Oh no! Oh no! Oh no! E' la morte che posso Dalla Dalla Oh my god Oh no Dai Coglione Ehm Aspetta Io esco sempre con tante funzioni Riscaldami un po' Si si No 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 Faccio questo Faccio questo Servirebbe una mia ultima in questo Come? Servirebbe una mia ultima? No No L'ho salvato io Eh Che cosa? L'ho salvato per la seconda volta L'ho preso Cicuto La pol Ah ma non c'è una torre Veio come una rosa Ahahahahah Ah, chi ha attaccato la bomba? LEVATEVI Sì! Devi urlare quando mi muore AAAAAAAH È la bomba Vuoi di urlare Volevi di urlare Volevi di urlare Ma quello zile? Oh, non ne me lo vedo Dai! Ma come ti puoi? Mest'amorendo Ci sia Ma cuore sciacco Che mezzini Quindi io Ma quello zilean 18% Fatto l'altro Fatto l'altro Non so E' un problema Va sì, cos'è la corn E' la usato Sì no no se provate usare lo sconsuppone dai non si può far danni però è andato in ultimi non so forse è finita dove sei? qua però fai danni è molto zilvia cioè in realtà non è morto però faccio danni non ci vuoi essere non è niente non è niente hai ucciso il mio riferò uccisione ma è coglione quello oh non uso mai la ecolo non è così tremendamente forte no uuuh c'era un zaccionato sul vellù ma perché è stato dov'è? un alleato di statura ci sfidate dalle imitazioni cia minchia pippo girati ma c'era per riusci che uccisione un e è stato ucciso ma and better non è vero non è vero La tua squadra ha distrutto un inibitore Deffidato Pazzesco Oh ma io ho sempre una bomba in testa Meglio di così Si muore Meglio di così Si muore Zinedei Tutti metti Oh no Bella bella Che cazzo fa Ma è morto Ma Kyle LOL Hai capito che è successo? L'ho uccisa Hai capito come è successo? Di mio Non è Facci danni Come ne fa un pochino di più però Corri Dai Non è Resetto Si no Quanto ti è piaciuta questa? Ora mi rimpi di api Ora mi faccio il rabato Questa è l'ho Che è morto Come Che c'è 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 Ma alla fine le ditte cose per l'objeto? Ok, finiamo quel video e spero che vi sia piaciuto Cosa dovrei dire? Ciao